Secondo impegno interno di fila per il San Pietro in Valle, dopo il K.O. di misura con l'F.C. Metese, la squadra di Palazzo deve fare i conti con la terza della classe, Aurora Alto Casertano, del dimissionario player coach Nicola Mancino, che si è congedato con squadra, staff e società nel corso della settimana. Dirige il signor Corbo della sezione di Termoli al terzo e già vantaggio per l'Aurora, piccolo dalle retrovie e buono il pallone per Manna, che supera Sandu con un pallonetto, resta il dubbio sulla posizione di partenza del marcatore. Al quinto il tiro cross di Dovidio, per poco non fa parlare di bis immediato e solo incrocio dei pali. All'undicesimo San Pietro con la giocata di Iovine, che porta Iezza alla fase di rifinitura, Russo con un colpo di Reni nega il pareggio. Siamo al trentaduesimo, parti invertite dalla sinistra al centro Iovine, si alza il muro casertano. Trentaquattro il break di Terriaca, che va a lanciare Iovine, il tocco sotto che vale l'uno a uno e il rosso-blu, che chiudono in crescendo il primo tempo. Il corner dalla destra al trentasettesimo, si avventa Fraraccio, miracoloso Russo, respinte le proteste che gridano al gol. Al trentanovesimo, altro episodio che vede ancora protagonista Fraraccio, che viene sanzionato con il cartellino giallo dopo questo contatto con il portiere Campano. Uno a uno alla pausa, nella ripresa siamo all'ottavo, il piazzato di Fraraccio stacca Iovine tra le braccia di Russo. Il quattro di casa ci riprova da fermo, intorno al ventinovesimo, il russo questa volta blocca in due tempi. Trentaduesimo è la volta di Di Lullo per l'Aurora e una telefonata però per Sandu. Minuto trentasette i biancorossi che si riportano in vantaggio sullo svolgimento di un calcio d'angolo. Alameglio Manna che sigla sotto misura l'uno a due e la sua doppietta personale. Quarantunesimo, Pistillo dalla propria trequarti, Fraraccio che va a vincere il rimpallo, realizza Fazioli in posizione irregolare, secondo l'assistente che viene cerchiato da diversi giocatori rosso-blu esigenti di spiegazioni. Gara che scivola senza ulteriori sussulti, fino allo 95esimo, 1-2 in favore dell'Alto Casertano, che consolida il terzo posto e si proietta la sfida di ritorno dei quarti di Coppa sul proprio campo. Mercoledì per difendere il 2-1 ottenuto all'andata contro il Castel di San Grocep. San Pietro in Valle invece con la testa allo scontro di domenica prossima lo Civitelle contro l'Olimpia agnonese.